Allora, la signora Carla Di Bolzano, 73 anni, Parkinson, ciliaca. Sì, e infatti qua sarebbe sempre meglio, opportuno, poter fare un bel po' di domande, però insomma le trasmissioni sennò si dilungherebbero troppo sui singoli casi. Vorrebbe sapere quando è che ha, visto che ha detto che la sua storia è cominciata dai 50 ai 55 anni, la sua storia col Parkinson, e sapere quando è che ad esempio ha scoperto di essere celiaca. E poi da ricordarsi, gruppo zero, celiachia, non è che uno va in farmacia a prendere i prodotti iperceliaci, perché i prodotti iperceliaci possono contenere mais e possono contenere anche amido, fecola di patate, due cose che le persone di gruppo zero è decisamente meglio che evitino. Per cui uno di gruppo zero si vuole portare avanti la sua alimentazione usando un poco di farinacee, ecco, senza glutine, che si indirizzino verso il riso, il miglio, il grano saraceno, quinoa, amaranto, ecco, sono cose decisamente meglio. Invece il mais le può creare dei problemi. Certamente il Parkinson, il Parkinson in una persona di gruppo zero, i casi possono essere tre. O l'uso frequente, abitudinario e anche notevole, se non dire eccessivo, di caffè, o peggio ancora del tè, soprattutto il tè nero comune, il tè fermentato, o il tè detainato. Il tè verde è ben difficile che crei questi problemi. E poi l'altra cosa, il latte e i derivati del latte. Per quello che io ho visto nelle persone di gruppo zero che hanno sviluppato il Parkinson, in genere questi tre sono gli alimenti che lo possono avere scatenato. Quindi alla signora Carla, le diciamo, la sua celiachia la porti avanti, come l'abbiamo detto, senza, senza, senza mais, non solo senza glutine, ma senza mais e senza patate. E poi, attenzione, sicuramente alla larga, alla larga, dai prodotti tipici del Trentino, ecco, è nell'alto adige, soprattutto di quel famoso, ecco, prodotto carne o affumicato, che è micidiale, e poi devono stare molto, molto attenti. Sicuramente fa bene se salta la cena. Se salta la cena, nel senso che l'organismo, stando diverse ore senza cibo, ha la possibilità di depurarsi, disintossicarsi, e per le persone, e di riparare, nel limite del possibile, fare il contrario di quello che faceva Penelope, la moglie di Ulisse, che lei faceva la tela di giorno e la disfava di notte. invece, questo qua, è che magari uno la disfava di notte, la tela, la tela del Parkinson, ecco, e di notte invece la può rifare, ricucire, se il sistema immunitario viene lasciato lavorare in pace. E poi, certo, bisognava sempre parlare, vedere, rendersi conto di persona. Tenete conto che adesso stiamo cercando di dare, nel limite del possibile, delle indicazioni, delle dritte, però l'ideale sarebbe appunto a vedere, per queste problematiche severe, avere davanti le persone, poterle fare dei, così, un po' di domande. E tenete conto che il Parkinson, in genere, è una malattia, per cui, come pure altre malattie severe, come possono essere con la sclerosi multipla, o, peggio che peggio, la laterale amiotrofica, la SLA. Magari uno fa degli accertamenti, ecco, esami del sangue, tutto risulta a posto, per cui uno poi dice, ma credo, com'è possibile, guarda, questi esami sono perfetti, ufficialmente risulta che uno non c'è un bel niente, e poi invece c'è un'ira di Dio e di problematiche. Poi la signora sarebbe opportuno che vedesse, valutasse, se va più d'accordo con la carne o col pesce. E lì, fare un po' di tentativi, e vedere, mangiando, semplificando, uno, due, tre, al massimo alimenti per pasto, ma questo va bene come regola per tutti quanti, ecco, quello di semplificare, in modo che così il nostro organismo ci manda a dire in tempi rapidi con quali andiamo meglio.